Quale inesauribile pienezza di grazia trova il credente in Cristo? Abbiamo bisogno di verità, egli è la nostra sapienza, abbiamo bisogno di rientrare in relazione normale con Dio, egli è la nostra giustizia e per la sua morte otteniamo il perdono e la riconciliazione. Abbiamo bisogno di una potenza di vita che ci affranchi dall'impero del peccato, egli è la nostra santificazione e nella comunione con lui siamo trasformati gradualmente alla sua immagine. Sospiriamo dietro alla gloriosa libertà dei figlioli di Dio affrancati per sempre, anima e corpo, dalla servitù della corruzione. Egli è la nostra redenzione compiuta e definitiva, a chi dunque ce ne andremmo noi, se non a Cristo, o di in chi ci potremmo gloriare, se non in Lui. O Gesù, Tu sei la vite di suave humor feconda, tenga ognor la fede unite, l'alme nostre, a Te, Signor.